buongiorno amici ma soprattutto amiche di my own workout c'è un tempo infame oggi sono in pista vlog vi c'è un tempo infame e sono anche piuttosto assonnato perché mattinate così non consigliano sicuramente l'attività fisica quindi bisogna proprio è uno sforzo psicologico per uscire allora ad ogni modo anyway oggi vi racconto la mia seduta di allenamento è una seduta specifica di preparazione atletica per lo sci di fondo infatti farò skating nella modalità nordic blading ecco lì ho l'attrezzatura pronta lì sono un set di roller blade e bastoni molto attrezzatura molto funzionale e poi farò in nordic run e qua poi entro nel tanto mi scaldo un attimino facciamo un giretto assieme e poi farò un fartlek che è un fartlek piuttosto impegnativo perché in realtà in termini di corsa diventa un medio variato sono sei per sei minuti con due minuti di intervallo di recupero svelto in cui andrò a utilizzare ben quattro tecniche nordiche dryland training per lo sci di fondo i blocchi da sei minuti li farò in alternanza con nordic run e moose hoofing sarebbe lo striding la simulazione del del passo alternato con molta enfasi sul lavoro dei flessori delle anche e andrò quindi per 48 minuti con questo fartlek che è piuttosto impegnativo ad ogni blocco andrò in progressione in facile progressione sono un po di andature laterali allora dal mio sito ho visto che recentemente ci sono state ricerche per quanto riguarda il discorso nordic running e mi è arrivata una domanda via mail che differenza c'è tra fare fondo con il nordic run e fare fondo di corsa allora ragazzi questo è il titolo del del nuovo vlog la differenza è prettamente di salvaguardia del intanto del blocco muscolare articolare e tendineo perché con il nordic run potete permettervi di fare potenzialmente più minutaggio ad impatto ridotto adesso non sto a dare percentuali non sto a dare numeri ma ridotto di parecchio parecchio perché la differenza la sentite sulla struttura se fatto un chilometraggio di nordic run o se fatto un chilometraggio di corsa normale il vantaggio qual è oltre ad utilizzare più ossigeno quindi ottimizzare il tempo che avete a disposizione per allenarvi andate a scaricare molto delle articolazioni delle gambe perché il rapporto come spesso dico è 60 per cento 40 oppure 70 per cento 30 capite che le braccia svolgono un ruolo sia di ammortizzazione ma anche di spinta ogni chilometro di nordic run dovete concepirlo come chilometri diciamo in quadrupedia quindi si può dire che le distanze i minutaggi in nordic run valgono quasi quasi doppie bisogna fare attenzione però perché passare dal nordic run provene provenendo dalla provenendo dalla corsa in realtà è sempre correre logicamente è uno stile di corsa diverso c'è compatibilità e trasferibilità tra tra le due cose assolutamente al cento per cento perché noi continuiamo a correre avendo molto molto scarico sulle gambe cos'è che dicevo bisogna fare attenzione però ad una cosa è molto facile in nordic run dal momento che il dispegno energetico è doppio o quasi doppio trovarsi spesso e molto facilmente a soglia quindi sabotarsi già nei primi chilometri per il fatto che le pulsazioni vanno su veramente molto molto facilmente quindi è anche un ottimo esercizio per migliorare la capacità di calibrare la distribuzione dello sforzo ritmi anche relativamente bassi se parliamo di media chilometro si traducono però in frequenze cardiache e nettamente più alte rispetto alla corsa normale ipotesi un ritmo da 4 e 15 4 e 20 di nordic run lo si percepisce come un 3 35 3 40 di corsa classica indicativamente quindi capite il potenziale del dell'attività e a chi mi ha chiesto proprio il discorso alla domanda sul transfer vi posso raccontare questo aneddoto nel 2019 quindi ben prima del del cobit avevo fatto un test in pratica avevo corso una una maratona cos'è che era a maggio si era una maratona maggio della santia ricordo bene facendo proprio un esperimento di lunghi e lunghissimi cioè parliamo di da un'ora 45 fino a due ore 15 di nordic run per poi provare a vedere cosa sarei riuscito a portare sul campo in corsa classica e quella maratona provenendo da questo allenamento diciamo non classico quindi abbastanza alternativo l'avevo chiusa in tre ore 0 2 che è un ottimo tempo se consideriamo una preparazione non non specifica quindi diciamo che si vi consiglio di provarlo se è utile soprattutto al fondista perché permette ci consente di fare mintaggi ad alta qualità aerobica e a basso impatto articolare tenendo presente tutto quello che vi ho illustrato ok adesso è il momento di andare a fare della mobilità articolare ho fatto un po di qualche allunghino e poi iniziamo con un sandwich aerobico andiamo con faccio dieci minuti di skating qua in pista c'è la pista piuttosto bagnata e poi vado fuori per i 48 minuti sono su strada è una seduta sicuramente andrà vicino alla soglia perché è molto è molto impegnativo portare blocchi di sia di striding che di nordic run per così per parentesi di tempo abbastanza prolungate quindi ci portiamo a casa parecchio da da questa seduta e va bene penso di aver risposto a un po di domande e no in realtà ce n'è ancora una e poi concludo rispondo a manuel che è un ragazzo che mi segue della valle d'aosta e anzi che mi aveva chiesto informazioni sul correre sulla neve correre sulla neve cosa ne penso e correre sulla neve ne penso bene manuel perché è un lavoro di proprio cittività e con focus su l'attenzione di dove si mettono i piedi sugli appoggi però in realtà io in ambiente nevoso sai bene che opterei per attività sciistica di touring di di sci di fondo bene anche le ciaspole ci sono degli dei fondisti che guardano un po i ciaspolatori con così così ma è una è una buona attività di trekking a me piace molto il touring sulla sulla neve con degli sci particolari nordic touring diciamo che è una via di mezzo tra diciamo la ciaspolata e quello che può essere non so il trekking quindi comunque bene bene però diciamo che tra lo scegliere correre sulla neve in inverno e fare dei lavori su campestre tipo percorsi come questo con anche ondulazioni preferisco lavorare sul sull'erba bene ragazzi è con grande sforzo mentale che adesso mi avvio a fare questa questa sessione se volete provare la grande varietà delle discipline nordiche in preparazione del dello sci di fondo venitemi a trovare veramente in un singolo allenamento un singolo minutaggio riusciamo a utilizzare ben ben come farò io stamattina quattro tecniche e andiamo con il doppio con il passo schimo con l'alternato poi il nordic run e poi il moose hoofing anche detto striding che è proprio un una tecnica di avanzamento pattinata si va proprio a estendere il piede con calciata dietro in questo modo quasi si vede poco ma con una calciata dietro un appoggio sempre di meso piede il nordic run e poi finisco concludo mi permette anche di lavorare molto sul miglioramento della cadenza e sul miglioramento anche del discorso appoggio appoggio la spinta di di braccia dopo si trova l'allineamento si cade in avanti quindi dalle caviglie si cade in avanti porta caricando molto peso sui bastoni con le braccia si lavora veramente in una maniera incredibile nel settore inferiore nel distretto inferiore poi cos'è che si fa queste sono cose che facciamo nella preparazione one to one si tengono le ginocchia basse ci si focalizza su una rotazione di anche e si alzano i talloni proprio focalizzandosi su una cadenza maggiore questo mette a posto è un correttore di tecnica e di appoggi perché in questo modo riusciamo sempre ad appoggiare di meso piede sotto la linea di massa bene ragazzi da my own workout per oggi è tutto se avete domande contattatemi ai link in descrizione allenamenti divertenti e variegati e come sempre a bombazza